Allora, Eleonora Giorgi, nuova avventura, balando con le stelle, già ti vediamo un po' distrutta? No, come distrutta? No, io mi sto coprendo perché dopo due ore di aria condizionata rischio di non esordire sabato. Io mi ammalo subito con l'aria condizionata. Come sta vivendo questa nuova esperienza? Con entusiasmo. Mi diverto come una pazza, mi diverto come non mi ero divertita mai. Mi ero divertita quasi del tutto così con Costantino della Gherardesca tre mesi fa. La tv è molto divertente, grande fatica. Oramai è un mese che sono nel college, esco la mattina e torno la sera e studio anche la sera, sono negata. E il mio scopo è quello di divertire, perciò secondo me io farò tanto ridere il pubblico. Quindi è già pronta anche per il giudizio dei giudici? Eventuale giudizio negativo so che sarà imparziale, però so anche che terranno presente il fatto che io possa crescere. migliorare. Speriamo anche noi in questo, che possa dare il meglio di sé. Grazie. Grazie.